Matteo Salvini oggi a Brescia, di cosa si è parlato? Si è parlato soprattutto di promozione del territorio, dell'Expo, della necessità di intervenire a favore delle imprese del territorio e sostanzialmente abbiamo discusso delle iniziative intorno al marchio Made in Provincia di Brescia, alla mostra di grande interesse che dimostra qual era e qual è l'importanza di Brescia allora, nei secoli e oggi e sostanzialmente in un'attività di promozione culturale turistica che spesso noi stessi a Brescia ma anche in Lombardia sottovalutiamo. Quindi si tratta di andare a reperire le iniziative e le risorse che ci sono da sfruttare, che non sono le miniere ma sono le capacità che abbiamo dai nostri imprenditori, ma anche quanto di bello è stato costruito nel tempo in termini di patrimonio artistico e anche paesaggistico. in Provincia di Brescia e anche Lombardia.